C'è chi ritiene che la tecnologia blockchain servirà soprattutto ad efficientare modelli di business o di governo o di relazione sociale esistenti, quindi il governo che usa la blockchain per il catasto o per la sua moneta nazionale, la banca centrale che usa la blockchain o più in piccolo, la banca commerciale che usa la blockchain, lo stock market regolamentato che usa la blockchain, quindi blockchain come strumento al servizio di ciò che esiste. In realtà è come dire che internet è stato uno strumento al servizio dei giganti dell'informazione centralizzata, quindi che internet è stato utilizzato dai giornali o dalle major discografiche o cinematografiche. Come sappiamo non è così, internet come strumento ha permesso la disintermediazione di questi giganti, ha permesso un cambiamento che costituisce l'occasione di entrata nel mercato da parte di nuovi attori che fanno nuove cose e che tendono a scomporre e ricomporre in maniera diversa il mercato e l'industria. Questo vuol dire che la blockchain non sarà principalmente usata dai giganti della finanza per efficientare le loro transazioni, ma da outsider della finanza che non possono entrare in questo mercato per cominciare a scambiare valori tra di loro e questo si estende a ogni possibile applicazione. Come abbiamo visto la blockchain non è uno strumento di efficienza, risparmio costi, risparmio tempi o di guadagno di privacy, anzi è uno strumento in cui si perde tutte e quattro queste caratteristiche, ma con il vantaggio di eliminare i singoli punti d'attacco e senza i singoli punti d'attacco è possibile fare cose che oggi non è possibile fare perché oggi sarebbero censurate da normative, regolamentazioni, burocrazie, posizioni di vantaggio degli incumbent.